Dove siamo? Quello cos'è? Cos'è quello? Sembra un pochino... Anettone? Sembra un pochino il San Salvatore ma non è... Anestelle no? Siamo a Copacabana siamo arrivati abbiamo il brutto tempo però è spettacolare guardate che roba c'è questa è Rio de Janeiro ed è la mitica Copacabana birrettina subito servessina e musica live guardate che roba il brutto tempo il brutto tempo regala anche queste cose qua tramontone con nuvolazzi cala la sera a Rio de Janeiro e continua il viaggio intrepido dei turisti Maranza non sapete le volte che per colpa di questi capelli ci hanno chiesto se volevamo delle droghe tutte le droghe tutte tutte ogni volta che passeggiamo sul lungomare di Copacabana che l'abbiamo fatto solo una volta ci hanno dato anche degli artisti e sono solo unicamente i suoi capelli perché sennò con sta faccia al massimo massimo chirichetto ciao belli amo guarda che carini quelli siamo noi da vecchi ginnastica con la palla in spiaggia la Copacabana che poesia questo è amore guarda a un metro di distanza di qui ci siamo a fare la ginnastica dai tirassi una paura dai 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 eh ma te la tirassi troppo bene dai vattene là eccoci fortuna che c'è un via vai di nuvole perché sennò qua ragazzi è come sulla griglia anche se siamo 2500 km a sud di Natal guarda 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 tutti che corrono grande te e beh ovvio noi siamo balene spiaggiate qua come minimo guarda